Tre anni fa la scomparsa di Nadia Toffa, la giornalista e conduttrice televisiva di Brescia morta per un tumore al cervello dopo una lunga battaglia. Aveva ricevuto la cittadinanza onoraria tarantina per aver condotto numerose inchieste all'interno della trasmissione Le Iene sull'inquinamento ambientale del capoluogo ionico, sostenendo economicamente la raccolta iniziata nel quartiere Tamburi da tutti gli amici del minibar a sostegno dei bambini malati di tumore. Aveva fatto delle donazioni anche al reparto oncoematologico pediatrico dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, che l'è stato poi intitolato dopo la sua scomparsa. A suo nome è stata anche creata una fondazione Onlus, che al momento sta raccogliendo fondi per l'acquisto di un ecografo e neuronavigatore utile all'asportazione dei tumori al cervello. Grazie a tutti! Grazie a tutti!